Se Mrs. Clay fosse una donna molto bella, te lo assicuro, la mia familiarità con lei sarebbe un errore. Niente, ne sono certa. Potrebbe indurre mio padre a fare un matrimonio inferiore al suo rango. La cosa potrebbe tuttavia renderlo infelice. Ma la povera Mrs. Clay non la si può certo considerare nemmeno minimamente piacente. Penso proprio che la povera Mrs. Clay possa stracuì con noi in tutta tranquillità. Si potrebbe pensare che tu non abbia mai udito nostro padre parlare dei suoi difetti, anche se so che devi averlo sentito almeno 50 volte. Quel dente e quelle lentiggini. Ho visto volti che non erano sfigurati da qualche lentigine, ma lui proprio non le tollera. Devi averlo sentito alludere alle lentiggini di Mrs. Clay. Non esiste un difetto fisico, rispose Anne, che a poco a poco non riesca a farsi perdonare da modi piacevoli e garbati. Io la penso molto diversamente, rispose Elizabeth con piglio deciso. I modi piacevoli e garbati possono sottolineare dei tratti squisiti, ma non riusciranno mai ad alterarne di ordinari. Tuttavia, siccome per me la posta in gioco su questo punto è molto superiore a quella di chiunque altro, ritengo assai poco utile che tu mi dia consigli. Anne non disse niente. Era felice che la conversazione fosse finita e non disperava di aver agito per il meglio. Elizabeth, nonostante fosse risentita per quel sospetto, avrebbe forse aperto gli occhi. L'ultimo compito della carrozza fu quello di accompagnare Sir Walter, Miss Elliot e Mrs. Clay a Bath. Erano tutti d'ottimo umore quando partirono. Anne, con un senso di desolata tranquillità, diresse i suoi passi verso Kellynch Lodge dove avrebbe dovuto trascorrere la prima settimana. La sua amica non era in condizioni di spirito migliori delle sue. Lady Russell soffriva molto per questa separazione della famiglia, teneva la loro rispettabilità come alla sua e il contatto quotidiano con loro era divenuto per lei una preziosa consuetudine. Era doloroso far errare lo sguardo sulle loro terre abbandonate e ancora più doloroso pensare in quali mani sarebbero finite. Così, per sottrarsi alla solitudine e alla melanconia di quel viaggio, ora così diverso e per essere lontana il giorno dell'arrivo dell'ammiraglio e di Mrs. Croft, decise di partire il giorno che avrebbe dovuto separarsi da Anne. Di conseguenza, la loro partenza avvenne contemporaneamente. Upper Cross era un villaggio abbastanza piccolo che fino a qualche anno prima aveva conservato tutte le caratteristiche del vecchio stile inglese. Qui Anne aveva soggiornato di frequente, conosceva le abitudini di Upper Cross non meno di quanto conoscesse quelle di Kellynch. Le due famiglie si incontravano spessissimo, avvezze come erano a entrare e uscire da una casa all'altra tutte le ore. Benché fosse più intelligente della sorella maggiore, Mary non possedeva la capacità di comprensione e lo spirito di Anne. Quando stava bene, si era felice e si sentiva al centro delle attenzioni, era d'umore eccellente e spiritosa, ma la minima indisposizione le causava una profonda depressione. Non riusciva a fronteggiare la solitudine e, avendo ereditato una buona razione della presunzione degli Elliot, era assai pronta ad aggiungere a tutte le sue pene quella di considerarsi trascurata o maltrattata. Era meno bella delle due sorelle e anche nel fiore degli anni era stata considerata tutt'al più una bella fanciulla. Adesso era distesa sul sofà sbiadito del piccolo ed elegante salotto. Quando Anne apparve, la salutò con un finalmente sei arrivata. Cominciavo a pensare che non ti avrei mai più rivista. Sto così male che riesco a malapena a parlare. Non ho visto anima viva per tutta la mattina. Mi spiace che tu non stia bene, rispose Anne. Giovedì scorso mi avevi fatto sapere che tutto andava per il meglio. Sì, ho fatto ciò che ho potuto. Lo faccio sempre. In realtà non stavo bene e non sono mai stata male come stamattina. Non riesco proprio a stare da sola. Davvero? Pensa se mi sentissi malissimo all'improvviso e non riuscissi a suonare il campanello. Oh Anne, sto così male. Sei stata davvero cattiva a non venire giovedì scorso. Mia cara Mary, ricordati che mi hai mandato notizie confortanti sul tuo conto. Mi hai scritto con un tono allegro dicendo che stavi benissimo e che non avevi urgente bisogno della mia presenza qui. E che stando così le cose puoi certo capire quanto desiderassi restare con Lady Russell fino all'ultimo. Povera me. Cosa mai puoi aver avuto da fare tu? Un sacco di cose, te lo assicuro. Più di quante ne riesca a ricordare in questo momento. Ma te ne posso elencare alcune. Ho fatto un duplicato del catalogo dei libri e dei quadri del babbo. Ho dovuto sistemare tutte le mie cosette. Libri espartiti da dividere. Rifare tutti i bauli perché non avevo capito in tempo cosa era stato deciso a proposito dei mezzi di trasporto. E un'altra cosa ho dovuto fare, Mary. Una cosa sai più difficile. Andare in quasi tutte le case della parrocchia per una specie di commiato. Oh, bene. E dopo un momento di pausa. Ma non mi hai ancora chiesto nulla del nostro pranzo di ieri dai pool. Allora ci sei andata. Non ti ho fatto domande perché pensavo che fossi stata costretta a declinare l'invito. Oh sì, ci sono andata. Ieri mi sentivo molto bene. Non ho avuto niente fino a stamane. Davvero? Sarebbe stato strano non vi avessi preso parte anch'io.